Stretta finale per il mercato lancianese con i tempi ormai maturi per i giusti acquisti. Mister Gautieri potrà infatti contare sulla sua prima scelta dopo il forfè relativo a Seferovic della Fiorentina. Gianvito plasmati e pronto a vestire la casacca rossonera in arrivo a Lanciano in pressito dal Vicenza. Il giocatore dopo l'arrivo di Bozinov non ha spazi e la dirigenza dunque ha soddisfatto l'urgenza virtussina di dotare l'organico di una riete centrale, uomo di esperienza, anche se non molto prolifico. Nelle prossime ore il Lanciano comunicherà l'ufficialità del nuovo acquisto. E già il 9 gennaio il TG Max uscì con la notizia di un forte interessamento per Leonardo Spinazzola, classe 1993, nato come centrocampista ma utilizzato come esterno offensivo di proprietà della Juventus, attualmente in prestito all'Empoli. Ebbene il DS Leone ha concluso anche questa trattativa con i due club d'accordo su tutto. Dunque sono ben tre i nuovi elementi a disposizione di Gautieri in un reparto offensivo di spessore. Piccolo, Plasmati e Spinazzola. Ovvio che in uscita si dovrà sistemare Vincenzo Pepe, ora in pieno esubero. Spinazzola quest'anno ha segnato un gol contro il Livorno, collezionando sette presenze. Plasmati e Spinazzola sono giocatori particolarmente graditi a Gautieri e lunedì si aggregeranno al gruppo. La squadra intanto è partita in aereo da Pescara, destinazione Bergamo, per poi trasferirsi a Varese. Mancheranno contro la squadra dell'ex Fabrizio Castori di Cecco e Aquilanti. Parola all'attaccante Diego Falcinelli. Torniamo dopo un mese di sosta, un mese nella quale abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto un buon ritiro e affrontiamo una squadra difficile in un gran momento. Abbiamo visto la partita con il Brescia, stanno molto bene in casa, giocano molto bene, hanno qualità in mezzo al campo e davanti. E quindi ci prepareremo e siamo preparati per fare al meglio sabato. Che partita ti aspetti? Sarà il solito Lanciano, non speculare, ma per fare bottino pieno casomai? Ma sicuramente, ormai puntiamo a quello, a fare ogni gara i tre punti. Speriamo di ricominciare da dove abbiamo lasciato, perché stavamo veramente facendo molto bene. Vogliamo i tre punti sicuramente. Vogliamo i tre punti sicuramente.